Ben ritrovati amici telespettatori, nella giornata di martedì i quotidiani in prima pagina davano una triste notizia a tutti gli appassionati di calcio, una notizia che chiaramente si riferiva ad un avvenimento accaduto nella sera precedente, lunedì. Cominciamo con uno sguardo alla prima pagina del quotidiano Avvenire che in taglio basso titolava Il calcio si inchina a rombo di tuono, l'addio a Gigi Riva. Ma anche altri quotidiani sempre in prima pagina dedicavano all'argomento uno spazio e il Corriere della Sera con una fotonotizia scriveva in taglio alto addio a Riva, mito eterno del calcio italiano. E poi trovavamo nell'occhiello 1944-2024 le imprese a Cagliari e con la Nazionale. E poi il quotidiano La Repubblica sempre in prima pagina che ci dava anche qui con una fotonotizia un titolo in posizione di spalla Addio, Gigi Riva, rombo di tuono. E poi sempre in prima pagina i titoli di tre articoli che poi sarebbero stati letti nelle pagine interne. La forza pura del numero 11 di Maurizio Crosetti. E qua una notizia che probabilmente non molti conoscevano. Zeffirelli lo voleva come attore di Emanuela Audisio. E poi quelle lacrime al Rose Bowl di Paolo Condò. E infine anche il quotidiano Il Giornale, anche in questo caso qui abbiamo la terza fotonotizia. Il quotidiano Il Giornale in taglio medio scriveva sempre lunedì in prima pagina Rombo di tuono in cielo, Gigi Riva, addio al mito, malore fatale a 79 anni. Questo è dunque il tributo che i quotidiani hanno dato martedì alla morte di Gigi Riva che ha davvero conquistato il cuore non soltanto dei tifosi del Cagliari ma anche per il ruolo che lui ha avuto nella nazionale di calcio italiana di tutti i tifosi di calcio del nostro paese. Dicevamo che Il Quotidiano Avvenire ha dedicato una sorta di ritratto di Gigi Riva a pagina 22 dell'edizione di martedì. Il titolo che troviamo è Addio Gigi Riva, eroe d'altri tempi. E poi c'è una sintesi nell'occhiello. L'ex campione bandiera dei Sardi era ricoverato in ospedale da domenica, vinse gli europei del 1968 ed è ancora oggi il miglior marcatore azzurro. A 79 anni muore una leggenda del pallone italiano, ex attaccante della nazionale e del Cagliari con cui vinse lo scudetto nel 1970. E poi alcuni dettagli lo chiamavano Rombo di tuono. Tanto era potente il suo tiro quanto oggi il vuoto che lascia nel mondo del calcio e non solo. Gigi Riva è morto ieri, lunedì, in pratica all'età di 79 anni. Ieri lo scriveva il Avvenire nell'edizione di martedì. All'età di 79 anni era ricoverato da domenica nell'ospedale Brozzù di Cagliari dopo un malore che lo aveva colpito mentre si trovava a casa. Quel nomignolo con cui lo aveva ribattezzato Gianni Brera ha accompagnato e sottolineato tutta l'epopea di un bomber sempre controcorrente. Era nato a Leggiuno, un piccolo paese sul Lago Maggiore in provincia di Varese. Ma Riva ha legato la sua carriera da calciatore e la sua vita al Cagliari e alla Sardegna. Idolo indiscusso e simbolo di un popolo orgoglioso a cui ha regalato il primo e unico scudetto conquistato dalla compagine Rosso-Blu nel 1970. Riva è ancora oggi il miglior marcatore nella storia del Cagliari con 164 reti. E dire che sull'isola doveva rimanere al massimo un paio di stagioni per sfruttarla quale trampolino di lancio e invece non se n'è più andato fino all'ultimo giorno della sua vita. Perché qui spiegò a chi gli chiedeva il motivo di una scelta così impensabile io che in pratica non avevo famiglia ne ho trovate tante. Rimase in Sardegna nonostante le grandi squadre lo avessero inseguito e l'allora presidente Juventino Boniperti ne aveva fatto quasi una malattia. Lo inseguiva con offerte straordinarie ma lui continuava a dire di no e a segnare in rosso-blu. E poi sono ancora sintetizzate sul quotidiano avvenire altre sue caratteristiche e altri suoi traguardi. Divenne il simbolo dell'uomo libero generoso con la maglia della nazionale italiana è stato campione d'Europa nel 1968 a Roma e vice campione del mondo nel 1970 in Messico. con 35 gol in 42 presenze detiene ancora adesso il record di marcature con la maglia azzurra. Abbandonato il calcio giocato, Riva ha continuato a vivere a Cagliari aprendo una scuola di calcio che porta il suo nome. A metà degli anni Ottanta è stato per un breve periodo presidente del Cagliari e poi dal 1990 è stato dirigente, accompagnatore e infine team manager della nazionale fino al 2013. E proprio in questa veste come team manager della nazionale Gigi Riva è venuto a San Giovanni Rotondo nel 2007 accompagnando idealmente la Coppa del Mondo che riuscimmo a far venire nella città di Padre Pio in occasione del JP2Gaming Festival quasi come sprone ai ragazzi che parteciparono a questo evento per far capire come l'impegno, la tenacia, la capacità di dare il massimo possa portare come aveva fatto per la nazionale di calcio del 2006 a risultati di grande prestigio come appunto la conquista della Coppa del Mondo. In quella circostanza Gigi Riva accompagnò la Coppa del Mondo e visitò i luoghi di San Pio da Pietrelcina. Ma dell'uomo Gigi Riva e soprattutto dell'uomo di fede Gigi Riva parleremo nella seconda parte. Adesso vogliamo capire con l'aiuto di Raffaele Mignano giornalista sportivo il perché di una scelta apparentemente in controtendenza con quello che è l'atteggiamento dei calciatori. Abbiamo letto dal quotidiano Avvenire che Riva doveva rimanere a Cagliari solo per un paio di stagioni, poi non se n'è più andato nonostante la corte spietata di Boniperdi. Allora Raffaele, come mai questo attaccamento a Cagliari, alla Sardegna e questa rinuncia ad andare nella blasonatissima Juventus? Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Gigi Riva oggi viene ricordato così tanto e così con affetto perché Gigi Riva ha rappresentato per lo sport, per il mondo del calcio ma anche a livello umano la dimensione di un personaggio attaccato ad una terra attaccato a dei valori soprattutto e qui in sintesi è la risposta immediata alla tua domanda perché ha rinunciato a tanti soldi, ha rinunciato ai fasti di squadre blasonatissime come Inter e Juventus perché ha sposato la causa di una terra, la Sardegna che lo aveva adottato di fatto, che lo ha amato e lo aveva amato ed è un uomo che crede nei valori e crede nella gente e guarda negli occhi e nell'animo della gente preferisce restare in quei posti anche a costo di non vincere più dopo quel bellissimo esplorato e lo scudetto del 70 ma andare avanti, ripeto, con la forza dell'uomo più che del calciatore. Ecco, tutti i quotidiani mettono in evidenza, riprendendo il nomignolo se così possiamo chiamarlo, che gli fu dato da Gianni Brera la potenza del suo tiro ma aveva altre caratteristiche che lo rendevano un goleador? Sì, aveva potenza fisica, aveva buona tecnica individuale aveva un ottimo dribbling e soprattutto aveva questa capacità di ordinare di fatto un reparto, quello dell'attacco che i nostri telespettatori conosceranno sicuramente e da solo era capace di fare reparto praticamente e con la sua forza e il suo impeto riusciva non solo a scardinare le difese e a superare le difese avversarie fortissime in quei tempi perché erano i tempi di un calcio eroico in cui c'era la famosa marcatura a uomo non già come oggi dove ci si diletta con vari moduli 4-3-3, 3-5-2 e via discorrendo lì c'era il mastino di turno che doveva marcare l'attaccante Riva e non lo mollava neanche un centimetro tant'è vero che Riva, come ricorderete e per chi non lo sapesse, magari per i più giovani è stato anche, come dire, tra virgolette vittima di due gravissimi infortuni in occasione di due partite della nazionale e ne è uscito fuori con due gambe spezzate però dopo tanti mesi di poi di riabilitazione è riuscito a rimettersi in corsia a riprendersi e tant'è vero a giocare ancora bene è stato, per meglio dire, un calciatore ma è stato soprattutto un grande compagno di vita per coloro che l'hanno conosciuto ed è stato un compagno di banco per i suoi colleghi calciatori e un padre per i più giovani nel momento in cui ha assunto diciamo nel 1987 l'incarico di dirigente accompagnatore della nazionale italiana di calcio con la quale, come sapete, ha vinto anche un mondiale nel 2006 Se tu volessi scegliere una caratteristica di Gigi Riva da proporre ai giovani calciatori di oggi fra le tante che in questi giorni quotidiani ci stanno mettendo sotto gli occhi quale sceglieresti? Non ho dubbio, l'umiltà 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 di un giovane che è arrivato dalla provincia e che è sbarcato su una terra a lui sconosciuta questa Sardegna parliamo di tempi ormai quasi tra istorici rispetto alla modernità attuale non era facile ovviamente per un giovane adattarsi a nuove situazioni e nuovi ambienti L'umiltà la voglia di credere in se stesso la voglia di andare avanti la riconoscenza verso chi ha creduto in lui e soprattutto il fondamento della radice soprattutto dell'uomo che che ne dica poi il suo volto da combattente spartano in realtà era un taciturno ma Riva è uno che ha creduto sempre nei valori veramente della vita e li ha saputi trasmettere a tutti coloro che lo hanno accompagnato io ho avuto magari anche se non proprio in maniera proprio così intensa alcuni contatti con Gigi Riva e devo dire che ne sono rimasto veramente entusiasta come persona e come uomo per quello che è riuscito a trasmettermi con le sue parole con il suo dire poco ma importante e imponente Grazie a Raffaele Mignano tra poco dopo la pausa pubblicitaria cercheremo di mettere a fuoco l'uomo di fede Gigi Riva perché Gigi Riva è stato un uomo di fede abbiamo detto che è venuto a San Giovanni Rotondo ha visitato tutti i luoghi di San Pio ma noi ci collegheremo con il convento di Frati Cappuccini di Cagliari dove per noi ci dipingerà alcuni ricordi padre Roberto Sardo a fra pochissimo Nella seconda parte di Teleobiettivo vogliamo delineare il Gigi Riva uomo e per questo siamo collegati con Raffaello Vescovi che è stato capitano del Cagliari in cui Gigi Riva era il grande attaccante che tutti ricordano Raffaello Vescovi quindi è stato non soltanto compagno di squadra ma anche diciamo amico ha intessuto un rapporto anche personale e allora al di là del fatto che il suo ruolo di grande difensore del Cagliari ha consentito poi insieme ai gol segnati da Gigi Riva di arrivare a determinate vette mai raggiunte dalla squadra sarda ma il vostro rapporto chi era Gigi Riva uomo compagno di squadra era era un ragazzo quando arrivato era parlava parlava poco però era è sempre stato un ragazzo semplice di quei ragazzi che allora che avevano fame nel senso la nostra squadra eravamo tutti giovani e avevamo fame volevamo arrivare sicché si faceva quello che l'allenatore che per noi Silvestri è stato come un padre per noi e ci insegnava ci dava e ci faceva ci faceva a noi prima dopo le dieci e mezzo non si doveva rientrare dormiva lì con noi Silvestri e Gigi era un ragazzo semplice mi ricordo anche quando la prima macchina che comprò perché prima allora non si guadagnava soldi che guadagnano adesso adesso allora si guadagnava 3-4 volte più di un operaio e quando si smetteva di giocare si doveva si doveva trovare un lavoro e Gigi era uno di noi si dormiva tutti davanti in via Osta tutti nello stesso perché eravamo tutti scapoli tutti ne si aveva un piano ci si aveva una donna che una signora anziana che la signora Emma che ci faceva ci rifaceva le camere ci lavava la roba tutto eravamo dei ragazzi dei ragazzi semplici e lui erano di quelli quando è arrivato quando è arrivato Gigi quando è arrivato Gigi quando comprò la macchina per dire la verità quando comprarono la macchina in quattro la comprarono quattro amici venivano allo stadio con la macchina e erano tempi bellissimi perché eravamo tutti dei ragazzi che volevamo arrivare arrivare dove siamo arrivati e dove è arrivato anche lui mancevamo tutti allo stesso ristorante e poi dopo pranzo si andava tutti al mare a prendere il caffè dopo si andava perché allora si giocava alle due e mezzo sicché alle due e mezzo si iniziava l'allenamento e lui era uno di quelli che faceva quello che facevamo noi noi eravamo un po' uno più grande di lui però lui è diventato grande facendo tanti tanti sacrifici è diventato quello che è diventato ecco se dovesse dirci una caratteristica del carattere di Gigi Riva che l'ha colpita particolarmente qual è? no gliel'ho detto la sera quando tornavamo lui dice parlava sempre poco però la sera quando ci ritrovavamo nella sede dove c'era il biliardino c'era la televisione ci faceva la partita a carte era un ragazzo che scherzava con tutti scherzava però durante durante la vita è sempre stato un ragazzo molto timido molto timido era semplice un ragazzo semplice di quelli che non 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 travalzavano gli altri no non scavalcavano gli altri era faceva il suo e basta era uno dei giocatori giocatori che poi che è diventato più forte anche dopo che è diventato quello che è diventato è rimasto sempre un ragazzo semplice e questo era e questo era il suo modo di vivere il suo modo di fare per dire lui quando noi andavamo a pranzo o a cena la sera noi noi c'era un allenatore allora che noi ci ha dato una certa educazione Silvestri ci insegnava tutto dice guai a chi dopo l'otto e mezzo guai a chi arriva a cena il giorno alle undici e tre quarti si trovavano tutti ad essere a pranzo e lui ci ha fatto veramente da padre a volte ci ha ci ha anche dato qualche calcio a tutti e l'ha dato anche a lui a Rizzo Silvestri era uno così era uno che veramente pretendeva che come se fossero come se fossimo i suoi figlioli veramente e ci ha fatto diventare grandi per questo grazie per questa bellissima testimonianza che ci ha rilasciato Raffaello Vescovi compagno di squadra capitano e difensore di Gigi Riva in quel mitico Cagliari e ora come preannunciato ci colleghiamo con Cagliari dove c'è per noi fra Roberto Sardu che i nostri telespettatori ben conoscono perché è un apostolo della figura della spiritualità di padre Pio padre Roberto tu hai conosciuto Gigi Riva ti chiediamo di raccontarci in quale circostanza e di descriverci per quello che ti è possibile la sua figura di uomo di fede sì allora intanto pace bene a tutti e ho conosciuto Gigi Riva quando io ero giovane studenti avevo sui 20 anni e qui a Cagliari era ancora vivo il nostro servo di Dio Fra Nazareno e lui veniva spesso qui a trovare Fra Nazareno perché gli domandava le benedizioni soprattutto per quando giocavano e per i calciatori e per il Cagliari e per la sua famiglia i figli li ha fatti studiare in una scuola cattolica il nostro frate li ha avuti anche come alunni ho avuto come alunni un figlio e Gigi Riva era un cristiano un po' come tutti gli altri ma si recava molto da Fra Nazareno perché tu come sai Fra Nazareno servo di Dio ormai è tutto a Roma per la sua causa di beatificazione e quindi era venerato come un santo e si recava molto da lui Fra Nazareno ben volentieri lo benediceva e io ho assistito una volta che gli diceva mi raccomando quando giocate non bestemmiate questo raccomandava Fra Nazareno ma era anche uomo di carità cioè si dimostrava generoso nei confronti delle iniziative io era un uomo di carità perché Fra Nazareno ha fatto delle offerte anche per la costruzione della chiesa che tu hai conosciuto ai Smolas della chiesa della Madonna della Consolazione ma anche i calciatori del Cagliari ogni tanto sono venuti a fare dei ritiri a chiedere preghiere anche sulla tomba di Fra Nazareno perché sono sempre stati devoti di questo umile fraticello che è morto nel 92 quindi immagino un po' recentemente quest'anno compiamo il 32esimo anniversario e cade proprio giusto Bisestile il 29 di febbraio era morto Bene allora ringraziamo padre Roberto Sardo lo restituiamo al suo ministero e ringraziamo anche Raffaello Vescovi e Raffaele Mignano per averci aiutato a delineare non solo il grande uomo di sport che è stato Gigi Riva ma anche il grande uomo diciamo di relazione e il grande uomo di fede grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi grazie a tutti Grazie a tutti.